Musica Amici di Globus Television ci troviamo alla sala Arpago di Catania. A breve avrà inizio la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione teatrale 2019-2020 del Gatto Blu. Dopo questa esilarante conferenza stampa, il panino con la mortadella? E credo che sia il piatto principale, il panino con la mortadella e un poco di prosecco per sgrassare poi la bocca. D'altro mondo sai cosa succede? Che il cibo è un aggregante, è un modo per tenerci uniti ed è anche simpatico, è una forma di aggregazione sociale. Questa nuova stagione teatrale cosa prevede? Prevede una serie di incontri che partono con noi con il Gatto Blu per proseguire con, te le dico di seguito, perché così faccio anche prova di memoria, con Dario Cassini, con Alessandro Di Carlo, con Roberto Lipari, chiudiamo ancora noi e poi ci sono tutta una serie di appuntamenti che sono le cosiddette officine del Gatto Blu, dove c'è François Le Coccinelle e poi una serie di stand-up con dei personaggi principali che possono essere Marta e Gianluca, Giovanni Cacioppa e Maria Piatimo. La sorpresa, simpaticissima sorpresa, sarà la presenza per almeno dieci giorni di Ficarre e Picone a marzo. Come vi spiegate questo successo? Dopo 30 anni siete ancora qua? Fortuna, no no, non abbiamo alcuna formula, noi dobbiamo questo, io ti ringrazio per averlo definito successo, diciamo riconoscimento da parte del pubblico perché siamo stati coerenti, siamo stati sempre presenti, siamo stati pronti a non tradire mai il nostro pubblico, non gli abbiamo mai tirato un bidone. Nuccio, sei pronto per questa nuova stagione teatrale? Sì, 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 sono pronto, però sempre, magari dopo 40 anni che si sale sul palcoscenico, c'è sempre quella tensione che non guasta, e che non guasta, ci deve essere, guai il momento che sali sul palco e sali così tranquillamente, no, ci deve essere sempre quella tensione che ti dà la carica e cerca di farti fare le cose come pensi tu, diciamo, bene, poi non siamo noi a dirlo, ma sarà il pubblico che sarà, noi diciamo sempre che la regia è del pubblico, è sempre il pubblico che fa la regia, e sarà lui a decidere, sì, sì, ma siamo pronti tutti, siamo pronti tutti. Un cast davvero eccezionale, tu, Luciano, Gino, Francesca, dopo 30 anni siete ancora qui? Sì, ci lega tantissimo, non solo la passione del teatro, ma come dice il nostro amico Gino, ci lega anche, perché noi, noi francamente non ci possiamo vedere tra di noi, ci odiamo, e allora, però, diciamo, ma allora perché non mi stai? No, non ci lasciamo, perché se io me ne vado e tu, come si diceva Cadenisa, rifreschi, ma non esiste, e allora soffriamo tutti quanti qua. Ed ecco questa, diciamo, coesione che c'è tra di noi, no, scherzi a parte, siamo, una cosa bella nostra e che ci aiuta tanto è che noi siamo amici fuori anche dal teatro, noi stiamo sempre insieme, noi non siamo solo qui quando c'è il teatro, ma noi siamo, ci cerchiamo, ci cerchiamo, stiamo sempre insieme, ormai siamo sposati. Siamo ancora qua con la stagione del Gatto Blu e parliamo ancora una volta di teatro. Parliamo di teatro, parliamo di Gatto Blu che è parte di questa città, che è uno di quei pezzi di fondamento. 30 anni, un compleanno speciale, una rassegna importante, perché i compleanni non servono solo a fare dei bilanci, ma sono sempre dei nuovi inizi, con questi quattro gatti che vedremo sul palco e questa 30 ore che hanno annunciato oggi, che sarà una notte speciale, dove probabilmente saranno coinvolte anche gli amici siciliani, Ficarre e Picone, ma soprattutto saranno 30 ore dedicate alla città, 30 ore in cui ognuno di noi potrà o cercherà di dare il suo contributo in questa scatola magica che Gatto Blu ha sempre mantenuto con grande forza in questo quartiere della Civita, quindi grazie a loro, grazie al lavoro che il teatro fa per la città, indipendentemente dalle velocità in cui va spesso una città. Qual è il punto di forza del Gatto Blu? Noi ci tiene uniti non tanto l'amore quanto l'odio. Noi ci odiamo e allora spesso diciamo ora me ne vado dal gruppo, ma giustamente uno pensa se io me ne vado l'altro a rifrisca e quindi questo è il punto di forza del Gatto Blu. In quale spettacolo ti vedremo, protagonista? In realtà io sono la prima e unica donna del gruppo, quindi cosa dire? No, no, noi lavoriamo tutti insieme, il nostro è un gruppo molto equilibrato. Debutteremo ora il 24 ottobre, primo spettacolo in cartellone e siamo tutti, non ci sono mai dei ruoli predominanti tra di noi. Noi giochiamo sempre sull'equilibrio dello spettacolo. Grazie. Non abbiamo prime donne, non ci sono prime donne ecco. Forse Nuccio un po', sì Nuccio è prima donna. Nuccio è prima donna. Luciano ti vedo pronto e carico per questa nuova stagione. Ma noi siamo sempre pronti e carici, perché il fatto di essere qui, in questo posto magico che ci accompagna da 30 anni è un posto positivo, quindi noi ci ricarichiamo la sera quando veniamo qua a provare, il pomeriggio quando ci ritroviamo con gli amici, perché non è che sono colleghi. Il gatto blu è un gogo d'amici, dove noi ci facciamo gli scherzi ancora a queste tacche che viviamo, facciamo gli scherzi, ammucciamo le cose, ci facciamo le telefonate con il numero anonimo, quindi è un modo, forse è una filosofia che non ci abbandona mai quella della sindrome di Peter Pan, ma non è la sindrome di Peter Pan, è che siamo arrestati, e quindi questo è un posto dove siamo carichi proprio perché è il posto che ci carica. 30 anni e siete ancora qui? 30 anni come gatto blu in questa sala, però come diceva poco fa Nuccio e Gino, il gatto blu nasce nel 76, poi ha fatto un suo percorso con altre sale, ma in questa sala noi siamo da 30 anni, e quindi ci abbiamo a fare questi 30 anni che onestamente sono passati, senza che ce ne rendessimo conto, perché eravamo ragazzini quando abbiamo preso questo posto, questo rifugio, ci lavoravamo la notte insieme tutti quanti come aggregazione, è stato il nostro spazio teatrale, il nostro spazio che ci ha visto crescere dal punto di vista sia teatrale sia dal punto di vista dell'amicizia, perché 30 anni di condivisione, non urlano manchi i matrimoni, non urlano manchi i matrimoni, eppure noi siamo sempre qua. Siamo al completo con la famiglia del gatto blu, Luciano, Francesca, Gino e Nuccio, allora siamo pronti per questa stagione? Innanzitutto un complemento per la memoria, sì ma credo proprio di sì siamo pronti, perché dobbiamo essere pronti, tra meno di una settimana andremo in scena e ti dico anche la verità, noi non vediamo l'ora perché da un po' che manchiamo dalle nostre scene, non è che stiamo parlando, però già il solo fatto che manchiamo da giugno è una cosa che le nostre tavole sono le nostre tavole sempre. Come fai a sopportare questi maschietti? Non lo so, anche io me lo chiedo, però ormai sono affezionata, loro per me non sono dei papà, qualcosa di più dei nonni, e quindi non li posso abbandonare, ormai da attrice in carriera sono diventata un'infermiera, e quindi mi tiene questo con loro. Lei non ci segue, ci bada. Sono la badante, sono la badante. È così Luciano, fa la badante. Sì, sì, ci ricorda le pillole da prendere, se siamo andati in bagno prima di salire sulla scena, perché poi uno dice, bimusco dai, e poi c'è, e perché... Se devi fare la domanda annuncio, parla fotto, perché non andando ci sente. Allora arriva in ritardo, non ci sente, com'è? Ma sono una chiavica completamente. Però, come vedi, gli vogliamo bene, ma proprio perché è così, se lui fosse diverso, no, non vorremmo assolutamente bene annuncio. E allora un in bocca al lupo al gatto blu per questa nuova stagione. Grazie, grazie, assolutamente. Viva il lupo. Viva il lupo. Viva il lupo, c'è chi dice crepe il lupo, c'è chi dice... No, viva, viva il lupo. Perché alla balena ci sono delle cose che non... Però diciamo, divertiamoci.